Mellace controlla, vede appunto il movimento dei propri compagni e poi serve Domenico Voci che scambia con Stagliano, che tenta subito il sinistro, gran tiro di Stagliano, Andrea Stagliano e la palla con un rimbalzo velenoso, beffa Ragusa quando siamo al 37esimo minuto di gioco. Ha chiamato lo schema anche dalla Bagnarese, palla al centro dell'aria, colpo di testa di Mamadou Nasser che segna quando siamo all'undicesimo minuto di gioco, Mamadou Nasser battendosi il cuore va a salutare i tifosi della Bagnarese e Stagliano si prepara appunto a calciare. Quindi vediamo che Carlo Bruno Longo richiama il suo, Mellace allunga la barriera, parte Stagliano, Andrea Stagliano e la doppietta con palla che va a sbucciare il palo e finisce poi in porta. Il Montepaone batte per 2 a 1 la Bagnarese, abbiamo qui il mister Pisano, una partita di carattere tosta contro una bella squadra ma il Montepaone ha detto presente. Sì sì siamo in un buon momento quindi volevamo continuare una striscia positiva che ci vede comunque protagonisti nelle ultime giornate di ottimi risultati quindi volevamo continuare così. Fortunatamente anche oggi i ragazzi hanno fatto una partita importante perché per giocare contro queste squadre noi dobbiamo fare per forza delle partite importanti sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista atletico. Eravamo un po' oggi sia noi che loro a disagio perché comunque il terreno di gioco non era in perfette condizioni però credo che alla fine si sia vista sia una Bagnarese forte come ci aspettavamo e sia un Montepaone che sta giocando alla pari con tutti e questa è una grande soddisfazione. Stagliano in doppia cifra quando si è avvicinato alla sua mattonella sembrava già una sentenza. Non è che avessimo dubbi che Andrea sarebbe arrivato in doppia cifra quindi ci è arrivato forse velocemente perché comunque ha le qualità che in promozione non è che ce le hanno tutti quindi è normale che gli si fanno i complimenti come è giusto farli a tutti perché se i compagni gli stanno permettendo di fare questo campionato credo che i complimenti vanno ben divisi. Un'ultima notazione, l'infortunio a quello che noi definiamo il Cristiano Ronaldo del Montepaone, Doria, che cosa gli è successo? Stiamo un attimino valutando perché ha preso una botta molto forte sulla spalla cadendo dopo un'accelerazione importante quindi comunque ha fatto un bel volo e dalla botta al momento lo dobbiamo portare in ospedale per controllare ma spero non sia niente di grave. Ed eccoci ora con il mister della Bagnarese Antonino Leonardis, innanzitutto i complimenti per una bella prestazione, si esce senza punti dal Frabotto Mannis ma sicuramente con la Bagnarese che ha lottato a testa alta. Buonasera, ancora non riesco a capacitarmi, sto pensando a lungo a questa partita e come ha detto lei, ha anticipato lei, siamo usciti sconfitti. Una partita veramente strana, non è la prima purtroppo che ci succede in queste 11 partite di campionato però purtroppo questo è il calcio e bisogna accettare il verdetto del campo. L'unica cosa che posso fare è fare i complimenti ai miei ragazzi per aver dominato una partita per 90 minuti però gli episodi ci hanno condannato quindi guardiamo avanti e cerchiamo sicuramente di migliorare. Tra i singoli una nota l'abbiamo data in telecronaca positiva a Barilà che non sembrava un fuori quota. Sì sì ma lo sto ripetendo da tanto tempo, tutti i fuori quota che sono in i nostri deserti sono veramente tutti di ottimo livello. Tant'è vero che anche oggi per l'ennesima partita abbiamo giocato negli 11 titolari, c'era presente un fuori quota in più di quanto preveda la norma. Questo sicuramente significa grande fiducia da parte mia e della società. La prossima partita è col San Luca, dove vuole arrivare questa bagnarese? Non abbiamo nessun obiettivo, o meglio, guardiamo partita dopo partita. Sicuramente fin dall'inizio abbiamo manifestato l'intenzione di arrivare a disputare i play-off. Però il campionato è ancora lungo, il cammino è lungo, affrontiamo la prima della classe cercando naturalmente di fare del nostro meglio come abbiamo fatto fino ad oggi.